Siamo a Piazza del Popolo, tra poche ore comincerà il comizio evento del Movimento 5 Stelle a Piazza del Popolo, appunto a Roma. Ci sono già i primi banchetti del Movimento da questa mattina a raccogliere firme e a dare informazioni. Ci sarà forse Beppe Grillo e probabilmente anche l'On. Di Battista, previsti anche Fedez, il rapper che si seguirà verso il fine comizio. Ci sarà Montesano, Enrico Montesano, l'altro comico, come Grillo, che sembra stia aderendo al Movimento 5 Stelle e anche altre personalità, Imposimato e altri. Oggi è una bella giornata di sole, come vedete la piazza qui le bandiere sventolano, ci sono già parecchi sostenitori del Movimento 5 Stelle. Quindi giornata ci auguriamo pacifica totalmente, di protesta ma pacifica. Eccoci qua, questo per il momento è tutto, a più tardi per gli altri video.